Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo un sondaggio fatto da Tecnes sulla crescita o la discesa nel consenso dei leader. Alla primo posto Mario Draghi che segna un più 0,4 rispetto alla settimana scorsa. In totale il Presidente del Consiglio ottiene il 60,8% del gradimento e si avvicina al picco del 61,4% ottenuto nelle prime settimane dopo il suo insediamento. Nell'ultima rilevazione dell'11 giugno Draghi registrava il 60,4% nei consensi del borsino dei leader. L'ultimo per gradimento nella classifica è invece Matteo Renzi che registra un meno 0,1% passando dal 10,2% al 10,1%. Per quanto riguarda gli altri leader continua a crescere anche Giorgia Meloni salda al secondo posto al 43,4% dei consensi con un più 0,4% negli ultimi sette giorni. Quindi Giuseppe Conte che perde lo 0,3% e si ferma al 37,9%. Matteo Salvini giù dal podio con il 32,2% meno 0,2%. Quinto Enrico Letta che guadagna lo 0,2% e si attesta al 29,5%. In crescita Salvini, no Silvio Berlusconi più 0,1% al 29,2% Roberto Speranza al 24%. Emma Bonino al 19,1% Calenda al 19%. Come dicevamo l'ultimo Matteo Renzi al 10,1%. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.